Un tweet a Fusano, devo andare in pubblicità e poi andiamo al lavoro di domenica. Una rapida considerazione, è ovvio che lo Stato deve avere la potenza etica normativa tale per cui deve, proprio come impone la scuola dell'obbligo, deve imporre alcuni vaccini fondamentali. Questo è fuori di discussione vorrei dire. Il punto però è un altro su cui non si sta ragionando forse, è che lo Stato deve anche avere il primato sul controllo della ricerca, non può essere sottratta e affidata semplicemente a enti privati. Questa è la quadra che bisogna fare. Per sintetizzare le posizioni credo su cui tutti conveniamo in questo amabile dialogo socratico che stiamo facendo. Guardi che è più importante questo di questa mattina che tanti così un po' buttati lì sulla fuffa.